A tenere sulle corde i giocatori della panchina, Gaggini, Spirito, Mozic presidiato il diagonale Ci stanno a chiudere questa possibilità e c'è la gran recupero, spettacolare rovesciata di Keita E poi Mozic, fantastico, fantastico, Mozic l'ha chiusa ma Keita cosa ha fatto? Una cosa incredibile Neanche Pelé in fuga per la vittoria, ha sorpreso un po' tutti anche il muro di...